Nel mio tipo di cucina utilizzo molto le verdure e utilizzo molto il pesce. In questo caso ho voluto portare proprio la materia prima, quella che più rappresenta il male, l'ostrica, il prodotto chiamiamolo chic, e l'algamauro, il prodotto shock. È un'alga molto forte, carnosa, un'alga ormai quasi introvabile, ormai rara, anche perché vive solo dove l'acqua è più limpida. Solitamente io seguo la stagionalità, quindi da qua mi è venuto naturale usare sia le favette fresche che gli asparagi selvaggi in un piatto abbinato al mare. Sono siciliana, quindi ho sempre creduto che i piatti che più mi rappresentino sono quelli del nostro mare. È molto facile utilizzare i vostri prodotti, nel senso che quando si parla di prodotti mediterranei, la Sicilia è sicuramente la regina di questa filosofia sia di cucina che di vita. Qui abbiamo messo la mandorla d'avola, abbiamo messo la tecnica del pane saporito con le erbette, l'oliva nocellara. Siamo cugini, per cui le cose sono successe quasi contemporaneamente, ferma estanto che la Sicilia rimane comunque una terra con delle peculiarità e delle autenticità più spiccate. Il piatto è appunto una zuppa di olive, una cellara del belice con il pesce spatola. Alla base c'è una crema di finocchi per dare questa mineralità, questa avvolgenza. Al centro invece mettiamo questa emulsione di mandorle e acqua minerale, proprio per dare un'ulteriore cremosità, ma questa volta più giocata sul tono della dolcezza. Quindi un piatto dinamico con tanti picchi, con tante diverse sfumature. Oggi abbiamo presentato questo piatto che è la stigliola, è una rivisitazione dello street food palermitano. Riuscire a fare e concepire cosa possa essere i sapori, le cotture e quello che è la materia prima della nostra bella Sicilia. Riuscire a riportare uno street food in un ristorante è qualcosa che per noi è molto importante. Il piatto nasce dalla rivisitazione del tiramisù, ci tenevo a far vedere alle persone cosa significa mangiare bene e sano, perché noi pensiamo per la qualità dei prodotti, per le cose che fanno bene e non male. Nasce anche da un fatto di poter spiegare che è molto importante per chi fa questo mestiere e conoscere le basi della pasticceria italiana che molte persone purtroppo sconoscono.